Gentili telespettatori, buona giornata. Una comunicazione di servizio. Mancherò per due giorni. Devo andare a ritirare i tre passaporti mio e dei miei figli a Città del Messico, quindi devo prendere l'aereo e andare fino lì. Quindi il 16-17 troverete sul canale un'attività ridotta, ho già preparato dei video che saranno sul canale e da lì, da Città del Messico, la sera proverò a fare dei video così da poterli vedere sul canale. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete e c'è anche Facebook dove questi video vengono poi condivisi dopo qualche ora. Arrivederci e buona giornata.